Monterosso Calabro in occasione della settima edizione del premio personaggi di prestigio patrocinato dall'Associazione Familia del Rubro Monte ha voluto rendere omaggio a uno dei suoi figli più illustri Arnoldo Farina, segretario nazionale dell'Unicef fin dalla fondazione ne divenne presidente nel 1983 rimanendo alla guida dell'Associazione per la tutela dei diritti dei bambini fino alla sua scomparsa nel 1998 un uomo capace di dare nuovo impulso alla cultura della solidarietà e dell'accoglienza ricordato ancora oggi con orgoglio dai suoi concittadini Arnoldo Farina è stato un monterossino davvero illustre grazie alla sua idea noi anche in Italia abbiamo appunto questa importantissima istituzione che fa sì che l'Unicef Italia sia una delle top ten una dei dieci Unicef nazionali tra le più importanti in tutto il mondo Cosa ha rappresentato Arnoldo Farina per l'Associazione da oltre 30 anni in prima linea nella difesa dei più deboli? Cosa può insegnare oggi con il terrore alle porte, le guerre in atto nel vicino oriente e l'immigrazione che diventa dramma umanitario? Lo abbiamo chiesto al presidente di Unicef Italia Antonio Guerrera I bambini sono comunque vittime della guerra, sono vittime della povertà, sono vittime delle violenze sono sempre loro, coloro che pagano il prezzo più alto nella comunità in genere ma nella comunità mondiale e soprattutto nei paesi dove purtroppo ancora esistono queste situazioni quando succede qualcosa in quei paesi è come se accadesse a casa nostra ormai le distanze non esistono Grazie a tutti